appuntate venite un attimo qua si ditemi maresciallo mi dovete fare una cortesia io devo tornare subito in ufficio si muovito 10 euro 5 e più 5 con queste 5 euro qua mi prendete il giornale e con quest'altra 5 euro mi prendete le sigarette andate e fate presto va bene volo finalmente appuntate e dove stanno le sigarette il giornale maresciallo sono mortificata perchè che è successo? mi sono dimenticata quali erano i 5 euro del giornale e 5 euro delle sigarette e voi dopo tutto questo tempo pretendete che me lo ricordo io ma io sono maresciallo e quindi sono intelligente ecco qua ma vi dico quali sono queste sono quelle delle sigarette e queste sono quelle del giornale e come avete fatto? e come lo fate? vedete qua che c'è scritto? sigarette e qua che c'è scritto? giornale e mica sono fesso io